Piazza Grande tre volte, chi lo sa forse una quarta. Piazza Grande tre volte, chi lo sa forse una quarta. Grazie, grazie. Credo di non essere stata mai davanti a un pubblico così numeroso, così meraviglioso. Ve ringrazio molto. Quindi voi pensate adesso di vedere un film così così. Vedrete che vi troverete bene. Sarà sicuramente meglio di quello che vi aspettate. Grazie. Ciao. Ciao.